Che strada prenderà Futuro e Libertà ai prossimi appuntamenti elettorali per le elezioni dei sindaci di Serni e Venafro? Nascerà davvero un terzo polo o un'alleanza tra forze non riconducibili alla vecchia logica bipolare? Lo abbiamo chiesto a Massimiliano Di Vito, esponente del partito di Gianfranco Fini. Futuro e Libertà guarda al futuro e alla libertà. Guarda alle prossime elezioni con tranquillità, guarderà chi saranno le aggregazioni, naturalmente poi dovrà valutare con chi schierarsi. Ma per quello che riguarda in particolare Sernia e Venafro, cosa puntate? A un nuovo sindaco o a alleanze? Un nuovo sindaco vostro o alleanze con gli altri partiti? Ogni partito si augura che il proprio candidato riesca ad avere la candidatura a sindaco. Ma noi guardiamo molto adesso in questo momento particolare per la politica nazionale, per la politica locale, guardiamo molto le aggregazioni. Quindi valuteremo, guardando sia a destra sia a sinistra, guardiamo con molta tranquillità un gruppo di moderati che vogliono il bene della propria città. Ai Sernia abbiamo fatto già un'esperienza l'anno scorso e speriamo di continuarla anche per il prossimo anno. Questo è un momento delicato per i Sernia. A parte che non c'è l'amministrazione comunale, è impraticato pure la provincia. Futuro e Libertà cosa farebbe qualora lei assumesse altre responsabilità in difesa della provincia di Sernia? Ma noi non è che siamo contro la sorpressione delle province. In particolare sui Sernia, io l'ho detto personalmente, la provincia di Sernia ha motivo di esistere sia allarghi i propri confini. Bisogna guardare all'Alto Casertano, all'Alto Sangro, al Sannio stesso. Sono realtà che orbitano il nostro territorio. Quindi una provincia più grande, una provincia ampliata avrebbe senso di esistere. Così come è fatta la provincia di Sernia, certamente ci lascia un po' preplessi. Perché avere una piccola provincia con 50.000 abitanti, io ritengo che a livello di divisione di spesa, il governo Mondi ha visto bene. Faccio un pronostico su Venafro. Vincenzo Cotugna, Antonio Sorbo, Massimiliano Scarabeo. Chi secondo lei può avere l'appoggio di Futuro e Libertà? Noi chiediamo a questi signori che hai nominato di dare l'appoggio a un candidato sindaco di Futuro e Libertà.